Benvenuti duellanti, qui Waco Tracca per il team United We Stand. Quest'oggi deck profile alternativa con una skill che è molto for fun. Ho voluto provare a montare una build per vedere cosa riuscivo a tirar fuori, ma è molto difficile riuscire ad avere un qualcosa di solido, però ci abbiamo provato. La skill è la melma melmosa, ha un'interazione con due carte fondamentalmente. La prima, gelatina rianimata, e la seconda, la macchina genera gelatina. Allora, l'interazione con la gelatina qual è? Se noi utilizziamo l'effetto di gelatina, viene distrutto in battaglia, paghiamo mille e nella nostra stand-by ce la rievochiamo, con la skill andremo a pescare tre, un po' di vantaggio carte. Mentre l'interazione più interessante, a mio parere, è con la macchina genera gelatina. Quando noi controlliamo questa in mind phase, possiamo attivare skill, mandarla al cimitero e spaccare una carta dell'avversario. La distruzione che deriva da skill è molto importante, perché fondamentalmente è come se noi avessimo un tifone spaziale mistico unito a un raggio notturno, perché l'avversario non potrà attivare la skill, la carta ma in risposta. La carta non partirà qualora fosse un awakening, perché sarà distrutta da skill e non da magia o trappola. Quindi per fare piazza pulita è molto interessante, questa carta di per sé non ha chissà quale effetto, ci fa evocare un token, ma se abbiamo lei scoperta non possiamo evocare lei in stand-by, perché non possiamo evocare altri mostri a parte i token, quindi ci sono un po' di cose da limare, ma è divertente da giocare. Ma adesso partiamo con la profile, vi mostro cosa ho pensato. Allora, 3 per della rispingi melma, questa carta è la carta più forte del mazzo, perché noi la evochiamo, effetto la rispingi melma, evochiamo due token. Con questi due token andremo a interagire in diversi modi. Lui, i token, ci permette di tributarli, ma non nel turno in cui li abbiamo evocati, ovviamente. Però, se noi abbiamo la rispingi melma già scoperta dal turno precedente, effetto evochiamo i due token, possiamo fare in tributo anche dei token, ma soltanto per una bestia sacra. E noi non ci facciamo mancare la bestia sacra. Quindi ecco che andiamo a giocare la monocopia di obelisco, che qualora riuscissimo a metterla sul terreno, diciamo che un obelisco non fa mai male. Passiamo alla gelatina che vi ho già illustrato prima. Niente, lei quando viene distrutta possiamo decidere di pagare mille, evocarla nella nostra stand-by, e con la skill andremo a pescare 3. Però, nel meta attuale, soprattutto contro lo schiacciacervello, è inutile perché rischiamo di pagare mille. L'avversario dichiara in end phase schiacciacervello, se la evoca, quindi non la evocheremo noi, avremmo pagato life points per nulla. Doppia copia di madre grizzly, che ci permette di evocare dal deck entrambe le gelatine che giochiamo, quindi ci fa difesa, permette di avere un po' di presenza sul campo. Ultimo mostro, ho messo la monocopia di Gap, da andare a tributare con gli altri mostri, perché lui mette tutti quanti i mostri in attacco, va un po' a sinergizzare con quella che è la nostra strategia del deck, che va a utilizzare i token per fare pressione sul campo. Passando alle magie, le tre macchine genera gelatine, queste qua sono tre tifoni uniti a tre night beam, fondamentalmente. la triplice copia dei token, dei gelati segna mostro, che andiamo a utilizzare con il nostro respingi melma, allevochiamo, dichiariamo effetto, evochiamo due token, gelati segna mostro, puliamo il campo e attacchiamo diretto. Abbiamo poi monobook, messo dalle limitate a tre insieme alle altre carte. Monocopia di uniti resistiamo, perché anche lei, in combinazione con la respingi melma, la evochiamo, doppio token, abbiamo tre mostri, boost importante per i nostri mostri. Monocopia della poltiglia rifletti metalli, va in combinazione con l'effetto di respingi melma, noi se in battle dell'avversario il mostro viene attaccato possiamo tributarlo, settarcela direttamente da deck o cimitero e attivarla nello stesso turno, quindi perché non giocarla. doppia copia della carta che va un po' a interagire con i token e a permetterci di mettere pressione sul terreno. Se noi abbiamo dei token in attacco, essi guadagneranno mille punti e non potranno essere distrutti in battaglia, quindi noi potremo continuare a avere presenza e andare poi a interagire con la token sunday, rievocarli e entrare in questo loop di controllo del terreno. Come ultime carte, dare limitate a tre, due muri di disturbo, i nostri mostri hanno poco output di danno, quindi mi sembrava la scelta migliore. Per la side, dei mostri ho messo due copie di babbo artigli per togliere roba molto pericolosa dal terreno, hanno 2.500 di difesa, possono essere comunque un problema, ma andando a potenziare il nostro token o andando a evocare il nostro gap lo mettiamo in attacco e possiamo vittarci sopra. Doppia copia di scambio creature, carta fortissima in combinazione con i nostri token, ma non l'ho messa di main in quanto non abbiamo, abbiamo un meta che è pieno di token di my precious queen, quindi questa carta giocata di main andrebbe a perdere molto impatto, mentre contro mazzi che non utilizzano quella skill assolutamente la inseriamo, andiamo a sfruttare i nostri. Ultima carta, doppio scontro mentale, cyber angel, qualsiasi cosa di meta attuale che possiamo andare a chiamare per dare fastidio all'avversario. La decklist di oggi era un po' particolare, molto for fun, fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, ricordate quindi di lasciarvi un like, un commento e di schiacciare la campanellina per essere aggiornati con i prossimi video. Un saluto!